Nella guerra contro i Longobardi noi vediamo per la prima volta Carlo Magno in veste di comandante militare, che è poi quello che ha fatto praticamente per tutta la vita, perché quello era il primo compito di un re dei franchi. I franchi erano un popolo militare, aggressivo, e il compito del loro re era precisamente quello di guidarli ogni anno in imprese militari, se possibile vittoriose, di invadere paesi nemici, sottomettere popoli, riportare a casa bottino. E' questo che i franchi chiedevano ai loro re, per questo li seguivano, per questo li ubbidivano. Carlo Magno dunque è un militare, è uno che tutti gli anni della sua vita conduce spedizioni di guerra. Non è però un combattente, non abbiamo nessuna testimonianza sul fatto che mai Carlo Magno abbia impugnato personalmente la spada, non lo vediamo mai nelle fonti dell'epoca, le canzoni di gesta più tarde sono un'altra cosa chiaramente, non lo vediamo mai combattere in mezzo ai suoi guerrieri. E non è neanche un generale, nel senso di Napoleone per dire, che sa con il colpo d'occhio vincere le battaglie, anche quando magari si trova in situazioni di inferiorità. In realtà Carlo Magno combatte in vita sua pochissime battaglie, combatte molte guerre, ma pochissime battaglie. Carlo Magno è però un grande generale, ma è un grande generale nel senso che noi oggi possiamo capire forse meglio, e cioè innanzitutto un grande organizzatore. Carlo Magno è uno stratega moderno, assomiglia molto ai generali di cui si parla oggi, quelli delle ultime guerre americane, il generale Schwarzkopf o pochissimo tempo fa Tommy Franks. Carlo Magno è uno che si trova a disposizione enormi risorse, perché è il re più potente d'Europa, e che eccelle nel pianificare l'uso di queste risorse. E pianificare le risorse non era uno scherzo, perché condurre una campagna militare nelle condizioni logistiche dell'epoca, e condurla bene con successo, come normalmente fa Carlo Magno, era una sfida in realtà abbastanza difficile. Noi dobbiamo immaginare che già nel corso dell'inverno Carlo Magno e i suoi consiglieri decidevano quale sarebbe stata la campagna dell'estate successiva. E il Regno Franco aveva nemici da tutte le parti, i Longobardi d'Italia, i Sassoni al nord, gli Avari all'est, gli Arabi di Spagna oltre ai Pirenei, quindi si poteva decidere di condurre la campagna in zone ed Europa diversissime fra loro. Ed era necessario pianificare l'afflusso dei soldati nella zona prescelta, con molto anticipo. Molti mesi prima dovevano partire le lettere per i comandanti locali, per i conti e anche per i vescovi, che erano incaricati di radunare gli uomini in tutte le province del Regno e di condurli poi, nel giorno stabilito, al luogo fissato per l'incontro. Era quindi una, come dire, un'impresa anche amministrativa complessa in un paese dove quasi non c'erano strade, dove quasi non esisteva un apparato di governo, la burocrazia era ridotta al minimo, dove tutte le lettere e gli ordini si spostavano a cavallo. Ecco, immaginiamo cosa vuol dire in queste condizioni pianificare il movimento di molte migliaia di uomini con i loro cavalli, i loro carri di rifornimenti, allo scopo di trovarsi poi tutti al momento stabilito, alla frontiera Longobarda oppure a quella Sassone, per poi condurre una campagna che durerà tutta l'estate e l'autunno, quando poi normalmente si smette di fare la guerra, si torna a casa, si va a caccia, si fanno cose più piacevoli. Ecco, in questo senso Carlo Magno, che combatte pochissime battaglie in vita sua, però dovette pianificare ogni anno una campagna militare e in generale lo sapeva fare bene. Nel caso dell'invasione dell'Italia Longobarda, il problema strategico che Carlo Magno doveva risolvere non era affatto semplice. Il Regno Longobardo occupava tutta l'Italia centro-settentrionale, il che vuol dire che le Alpi lo difendevano dai franchi. Tuttavia il confine non era lo spartiacque, come oggi il confine tra Francia e Italia, e questo favoriva in realtà la pianificazione della campagna da parte di Carlo Magno. Infatti i franchi sostanzialmente erano più forti dei Longobardi. Nel corso di secoli di guerre li avevano ricacciati indietro, avevano spinto il confine dei due regni, dallo spartiacque alpino fino giù al fondo valle. Per essere concreti, quando i franchi scendevano in Italia, potevano passare dalla Val di Susa, ma la Val di Susa era tutta parte del Regno Franco. Il confine si trovava laddove la valle sbocca nella pianura italiana, vicino a Torino. Oppure potevano passare dalla Valle d'Aosta, ma anche la Valle d'Aosta era parte del Regno Franco. Il confine si trovava allo sbocco della pianura. Questo evidentemente era, come dire, un grosso vantaggio per Carlo Magno. Se i Longobardi avessero potuto fortificare le cime alpine, probabilmente le cose sarebbero andate in modo diverso. Invece le valli erano in mano a Carlo e i Longobardi si potevano fortificare soltanto allo sbocco. E però si fortificavano. E si erano fortificati e come? Esisteva fin dal tempo dell'impero romano una tradizione per cui venivano fortificati gli sbocchi delle valli alpine nella pianura padana. E venivano fortificati con opere difensive che avevano un nome preciso che è rimasto anche nella leggenda, le chiuse. Sono famose in particolare le chiuse della Valle di Susa. Tuttora esiste un luogo che ha questo nome, le chiuse di San Michele, allo sbocco della valle. Ma anche lo sbocco della Valle d'Aosta era fortificato. Chi conosce quei luoghi sa che attualmente c'è lì un grande forte ottocentesco, il forte di Bar, che sbarra completamente il passaggio. Ecco, già al tempo di Carlo Magno dobbiamo immaginare che esistessero fortificazioni equivalenti. In cosa consistevano esattamente queste chiuse? Ecco, su questo la storiografia ha molto discusso, perché a un certo punto è sembrato che fosse semplicemente una leggenda, l'idea che ci fosse davvero un'enorme muraglia che sbarrava completamente la Valle di Susa e la Valle d'Aosta. Per molto tempo la storiografia ha pensato che queste fossero esagerazioni. Sembrava più logico pensare che queste chiuse, su cui i Longobardi contavano per difendersi dall'invasione franca, che queste chiuse fossero in realtà un insieme di fortini, torri d'avvistamento, barriere doganali, perché naturalmente si pagavano pedaggi passando da un regno all'altro. Ecco, questo è uno di quei casi in cui la storiografia più recente invece ha dimostrato che le vecchie leggende non erano così sbagliate. Nel senso che ci sono testimonianze sul fatto che il re Desiderio aveva investito parecchio nella fortificazione dei confini del suo regno e ci sono testimonianze archeologiche che fanno pensare che almeno la Valle di Susa fosse effettivamente sbarrata con una grande muraglia. Certo, niente di paragonabile non solo alla muraglia cinese ma nemmeno al Vallo di Adriano o lassù in Scozia, qui si tratta di una muraglia di pochi chilometri, quanto basta per chiudere una valle alpina, ma quasi certamente si trattava davvero di un muro, un grande muro, contro il quale Desiderio e i Longobardi potevano sperare che l'invasione franca si sarebbe arenata. Ecco, quindi quando noi cerchiamo di entrare nella testa di Carlo Magno, che deve pianificare l'invasione dell'Italia Longobarda, il problema principale che dobbiamo avere presente è questo. Ci sono due strade possibili ed entrambe sono sbarrate da muraglie. Dietro i Longobardi lo spetteranno. La prima scelta che Carlo Magno doveva compiere per organizzare l'invasione dell'Italia Longobarda era quella della strada da prendere. O si passava per il Monginevro, il Moncenisio e si scendeva dalla Valle di Susa, o si passava per il Gran San Bernardo e si scendeva dalla Valle d'Aosta. Naturalmente questa era una scelta cruciale perché i Longobardi lo avrebbero aspettato, un intero popolo in armi con tutti i suoi guerrieri radunati dal re, in attesa, in pianura, dietro le loro fortificazioni. E lo avrebbero aspettato certamente perché sappiamo che radunare un esercito era cosa che richiedeva mesi e mesi di preparativi. Quindi sicuramente una volta che Carlo Magno avesse scelto il luogo in cui radunare l'esercito, la notizia in un modo o nell'altro sarebbe trapelata e quindi i Longobardi avrebbero saputo da che parte veniva il colpo. Ecco, la prima intuizione che abbiamo del fatto che Carlo Magno non era uno qualunque ma che su queste cose ci ragionava e ci sapeva fare, l'abbiamo proprio dalla scelta del luogo in cui Carlo Magno raduna le sue forze. Infatti gli ordini che partono dalla corte di Carlo Magno nell'inverno e che raggiungono tutte le autorità locali e progressivamente mettono in moto tutta questa massa di guerrieri stabiliscono che il punto dove l'esercito deve concentrarsi è Ginevra. E basta un'occhiata alla carta per capire che da Ginevra era possibile sia prendere la strada della Val di Susa, scendendo lungo il Rodano, sia prendere la strada del Gran San Bernardo costeggiando il lago e poi risalendo il Rodano verso Martigny. Questo vuol dire che Carlo Magno ha scelto per radunare il suo esercito l'unico punto da cui il nemico non avrebbe potuto ricavare informazioni. In realtà poi Carlo Magno va anche oltre. Infatti per invadere l'Italia decide di non affidarsi alla sorte, di non concentrare tutte le sue forze su un'unica strada. Organizza per la prima volta quella che poi diventerà la sua manovra preferita e cioè una manovra a tenaglia. Carlo Magno farà scendere una parte del suo esercito dalla Val d'Aosta sotto il comando di un suo zio, Bernardo, mentre l'altra parte dell'esercito Franco, guidata personalmente da Carlo, scenderà per la valle di Susa. Naturalmente non stiamo parlando qui di colpi di genio, ma di una pianificazione molto accurata che sfrutta al meglio le opportunità. E su questo vorrei fermarmi un momento perché questa faccenda della manovra a tenaglia sarà poi una caratteristica della strategia di Carlo Magno in quasi tutte le sue campagne militari. E vorrei sottolineare che non si tratta soltanto di un'intuizione di Carlo, ma si tratta anche qui, quasi di trasformare in vantaggio uno svantaggio. La manovra a tenaglia è possibile, ma anzi è addirittura quasi necessaria perché i franchi sono forti, sono tanti. Carlo è in grado di radunare tanti guerrieri, tanti intendiamoci per l'epoca. Probabilmente un esercito Franco non contava più di dieci o quindicimila uomini, ma per l'epoca erano molti, moltissimi. Una parte di loro erano a cavallo, tutti quanti dovevano stare lontani da casa per molti mesi, già mesi di marcia prima ancora di cominciare la spedizione, e dunque avevano un'enorme quantità di bagagli, salmerie, carri trainati da buoi. Far marciare un esercito di quelle dimensioni su un'unica strada sarebbe stato un azzardo e avrebbe comportato grossi problemi tecnici, logistici, l'acqua finisce, l'erba finisce. Perciò Carlo Magno trae vantaggio da questo che invece potrebbe essere un impaccio, un imbroglio, e impara a organizzare diverse colonne che convergono sull'obiettivo passando da strade diverse, cosa che per un capo barbaro dell'alto medioevo non è trascurabile. La colonne guidata personalmente da Carlo Magno dunque scende per la valle di Susa. Scende per la valle di Susa e arrivata in fondo si trova di fronte le chiuse e dietro le chiuse il re Desiderio col grosso dei suoi guerrieri. Ecco a questo punto la sensazione forte che ci danno tutte le fonti è che Carlo Magno si sia trovato per un momento spiazzato. Come fare per superare questa muraglia? Tutti i testimoni dell'epoca ci dicono che il re riuscì a aggirare le chiuse, non fu costretto ad affrontarle. Alcuni dicono per la sua abilità riuscì ad aggirarle, altri come voleva la mentalità dell'epoca dicono con l'aiuto divino riuscì ad aggirare questo ostacolo. Un cronista molto tardivo però che chiaramente sta raccontando una favola dice che un giullare longobardo traditore raggiunse Carlo e gli raccontò che si poteva passare da un'altra strada per sbucare alle spalle del re desiderio del suo esercito. Questa storia piacqua al Manzoni, torniamo sempre a lui perché è attraverso la Delchi che tutti noi abbiamo sentito parlare per la prima volta di queste vicende. La storia piacqua al Manzoni che però non voleva un giullare traditore, voleva qualcosa di un po' più dignitoso e che perciò inventa la storia del diacono Martino che viene mandato da Dio che scopre una strada alternativa e va a insegnarla a Carlo Magno. Quello che è certo è che effettivamente i franchi in un modo o nell'altro riuscirono a trovare una via alternativa. Quale? Questo è uno di quei problemi di cui gli storici locali si sono appassionati, è come per la discesa di Annibale, quando un grande esercito passa alle Alpi poi nella memoria collettiva rimane in qualche modo il suo ricordo e se non rimane viene poi reinventato dagli eruditi e allora molti si sono rotti la testa per stabilire esattamente da dove sia passato Annibale quando attraversò le Alpi e allo stesso modo molti si sono chiesti da dove effettivamente Carlo Magno e i suoi franchi siano passati per aggirare le chiuse. La cosa poi al giorno d'oggi può avere anche ricadute turistiche, credo che in Val di Susa esista tanto di sentiero segnato come sentiero dei franchi con i cartelli che invitano i turisti a ripercorrere la strada di Carlo Magno. Tanto sicuri non si può essere, ma chi conosce la zona sa che effettivamente una strada alternativa c'è. Si discende, arrivate a un certo punto, verso destra, si piega in una valle laterale, la valle del Sangone, e si va a sbucare in pianura ai laghi di Avigliana alle spalle delle chiuse e molto probabilmente è proprio questo il percorso seguito da Carlo Magno. Quello che è certo è che non ci fu battaglia. Non ci fu battaglia, i franchi comparvero all'improvviso alle spalle dei Longobardi e li misero in rotta. Naturalmente non vorrei escludere che a questa rotta dei Longobardi abbia contribuito anche l'altra colonna che scendeva per la valle d'Aosta al comando dello zio di Carlo Magno, ma si sa ai cronisti interessava dare il merito al re e quindi è essenzialmente di quello che fece Carlo che sentiamo parlare. Ma appunto l'idea che l'altra colonna, discesa da un'altra strada, sia comparsa anch'essa alle spalle dei Longobardi servirebbe certamente a spiegare ancora meglio la loro rotta improvvisa. Quello che è certo è che appunto, ripeto, non c'è battaglia, l'esercito Longobardo si disperde, il re Desiderio in rotta va a chiudersi con i suoi fedelissimi dietro le mura della sua capitale, Pavia, mentre uno dopo l'altro i duchi Longobardi, i potenti del regno, cominciano a chiedersi se non sia il caso di passare dalla parte dei vincitori e uno dopo l'altro abbandonano il loro re e vanno a fare atto di sottomissione a Carlo Magno. La guerra di Carlo Magno contro Desiderio è praticamente vinta prima ancora che si sia combattuto. La guerra di Carlo Magno contro Desiderio è stata un'altra strada di della guerra di Carlo Magno contro Desiderio è stata un'altra strada di della guerra di Carlo Magno contro Desiderio è stata un'altra strada di